Una manovra che sicuramente non aiuta l'evasione fiscale ma che proprio cominciando a prevedere delle riduzioni di fisco, un fisco più incentivante, parlo della tassa piatta incrementale che permette a chi lavora un'ora in più sostanzialmente di pagare meno imposte. Cauti e aperture ma anche la cassetta degli attrezzi per il prossimo futuro e il senso del congresso nazionale di una graco, unione dei commercialisti e degli esperti contabili nel capoluogo e l'occasione per passare in rassegna la manovra del governo, della lotta all'evasione e alla riduzione del cuneo fiscale, passando per le agevolazioni andata a 35. D'altro canto cita l'Istat, ad ottobre 2022 rispetto al mese precedente crescono gli occupati e diminuiscono disoccupati ed inattivi, ma non basta per dirsi al sicuro. La flat tax è importante se viene ben strutturata, sarà una flat tax incrementale, quindi potrà portare maggior reddito e quindi questo va bene per lo Stato, ma anche una riduzione della tassazione per i contribuenti. Guardate il nostro è un paese in cui oggi le sanzioni, soprattutto in ambito fiscale, risultano essere sproporzionate rispetto alla violazione della regola per le quali poi quelle sanzioni vengono applicate. Il governo sta lavorando anche a una rimodulazione dell'impianto sanzionatorio con una riduzione che sia proporzionata delle sanzioni.